e ciao a tutti ragazzi abbono in questo nuovissimo video oggi siamo qui che siamo con il numero 46 di titanic la nave la leggenda andiamo ad aprire insieme questo numero che ci è arrivato andiamo a togliere la plastica andiamo a vedere come sempre il fascicolo titanic la nave la leggenda numero 46 nel prossimo numero tavolato maniche a vento areatori tetto salone di prima casse adesivo e viti si va avanti con il numero del ponte che sarà questa parte qui che abbiamo dei stili incrociati le ritaf gordon la stilista delle celebrità quello che disegni quella che disegnava vestiti il lucille look dei stili incrociati e qui iniziamo col nuovo numero con le 4 della lancia di sinistra iniziamo a fare anche la parte di sinistra eccola qua e più o meno ragazzi è quello che abbiamo costruito nel numero 45 il numero precedente quindi mettiamo qui il giornale e andiamo ad aprire questo cartone e vediamo i pezzi che abbiamo ricevuto qui abbiamo la tavolata in legno e due bustine andiamo a prendere il ponte del titanic e andiamo ad ammettere l'adesivo su questa parte sinistra andiamo a togliere l'adesivo ed ecco qua ragazzi perfetto abbiamo messo l'adesivo anche su questo pavimento perfetto ops questo si è staccato e andiamo a togliere l'adesivo